Mette un punto fermo Angelo Cassano che ieri sera si è dimesso dalla carica di direttore sportivo e generale della SD Castellana 1928 a seguito del match di prima categoria con il Noi Cattaro e del gol Fasullo assegnato agli ospiti dall'arbitro Andrea Romano, diventato un caso nazionale. Le divisioni sono dovute dalla mia colpa per l'errore fatto durante la partita, ma maggiormente per un caso mediatico eccessivo e per tutelare specialmente i miei ragazzi che non hanno nessuna colpa dell'accaduto se non il sottoscritto che era in panchina come più alta carica della società. Ora è una decisione forte ma doveva essere presa, doveva essere mosso qualcosa e il sottoscritto si è assunto le responsabilità di tutto l'accaduto. Senta, ma nessuno dei ragazzi ha capito subito che si fosse trattato di un errore? Come diceva il nostro Enzo Tamborra, forse si educa i giovani a fare i punti a tutti i costi? In quei momenti non ci si pensa a quello che si può fare. Sono certo che i ragazzi hanno pensato anche per i torti ricevuti in tutto questo periodo nostro, dall'inizio del campionato ad oggi. Forse la fuga di portare i tre punti a casa o altro, però dovete comprendere che avendo una squadra giovane determinati errori si possono anche commettere. Ancora 24 ore di tempo dalla dirigenza della squadra che ha già provato a rispingere le dimissioni di Cassano per decidere il da farsi. Intanto dal comitato regionale il no a rigiocare la partita per la quale sarebbe bastato solo un gesto di fair play.